Clamorosa svotta nell'inchiesta sul cosiddetto sistema Iorio, Manuela Petescia, direttore di Telemolise, accompagnata dall'avvocato Messere, si è presentata in procura a Campobasso per depositare una denuncia querela. Le ipotesi di reato segnalate nell'esposto sono diverse, tutte parimenti gravi, diffamazione, abuso d'ufficio, calunnia aggravata, falso ideologico, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telefoniche, contrattamento illecito dei dati. C'è un bel libro che io ho qua di Gerardo Colombo sulle regole. Le regole devono essere rispettate da tutti. Quando non vengono rispettate e si ingorre in illiceità penali, ecco, allora chi viene danneggiato, chi viene offeso, ha il diritto di segnalare alle autorità competenti quello che sta accadendo. Si parla di ipotesi di reato molto pesanti, avvocato, persone e ruoli. Di chi le responsabilità? C'è molto riservo sulla vicenda. E quindi chi, come, perché e quando, lo diranno i magistrati attraverso le loro carte al momento opportuno. Si sono individuati dei fatti che non sono certo di poco conto. Durante le investigazioni sono stati individuati dei fatti relativi a un magistrato. Quale parte offesa è danneggiato? E io ritengo che avrebbero dovuto subito inviare l'investigazione, quindi le indagini, a Bari. Perché la norma di cui è l'articolo 11 è chiarissima, la norma del codice di procedura penale, la norma di cui è l'articolo 97 della Costituzione sull'imbarzialità della pubblica amministrazione durante la propria attività è di una chiarezza unica. Ecco, questi fatti vanno a integrare, ad esempio, a mio avviso, un abuso d'ufficio che con un grave danno ha determinate persone. Si parla anche di intercettazioni telefoniche che potrebbero essere state, come dire, usate in maniera non corretta. Ho capito bene, Avvocato? Si sono intercettate delle situazioni di natura strettamente privata che nulla avevano a che fare con la indagine. Non solo, ma dietro gli omissis queste situazioni sono state portate alla conoscenza di tutti quelli che hanno avuto il fascicolo tra le mani e si possono benissimo leggere i colloqui privatissimi. In poche parole si sono fatte delle intercettazioni, come si suol dire, come si fa la pesca strascico. E questo non è possibile. Si parla anche di calugna, Avvocato. Il direttore Tremolise parla di calugna aggravata nei suoi confronti. Insomma, c'è, come dire, una macchinazione contro Manuela Petescia? Ma io lo diranno i giudici, lo diranno i magistrati, se c'è questa macchinazione. Noi abbiamo riportato i fatti. I fatti è che nell'indagine si parla di Manuela Petescia, persona incensurata, come un pericoloso criminale. Quindi sono fatti di una gravità assoluta. E i collegamenti, un'ultima domanda, Avvocato. I collegamenti con il sistema Iorio, che sembrano evidenti a questo punto? La dottoressa Manuela Petescia, in quel procedimento, è indagata per corruzione editoriale ed è contestualmente parte offesa e danneggiata per una agitata estorsione. Questa è la posizione in quel procedimento della mia cliente. Avvocato, non a caso ho parlato di macchinazione perché lei ha collegato la vicenda di Manuela Petescia a quella di un magistrato. Ha parlato lei di un magistrato, ha parlato di un'inchiesta che doveva essere trasferita a Bari. Ecco, qual è questo collegamento per farlo capire ai telespettatori? Sul punto le devo rispondere come ho fatto all'inizio. C'è il massimo riservo. Arriverà il tempo in cui queste notizie si potranno conoscere. L'orecchio di Dionisio non deve diventare mai ipertrofico. Deve saper conciliare le esigenze investigative con i diritti dei cittadini. Quando non lo fa, va a violare delle norme che esistono nel nostro ordinamento giuridico e chi le viola si deve assumere le proprie responsabilità.